buona domenica delle palme a tutti secondo round della mostra controvento a santa marinella e io sono germana di natale in arte mulla adesso vi mostro che cosa sta succedendo stamattina allestimento sempre molto interessante e vi do un assaggino veloce mi copro con questo foulard perché una sciarpetta nera in realtà perché in effetti c'è tanto sole una panoramica velocissima dei quadri in esposizione e guardate che panorama ragazzi guardate dove siamo veramente un bel panorama quindi un saluto da germana in arte mulla oggi pomeriggio mi esibirò mi sono già asibita ieri pomeriggio con poche canzoni ma oggi sarà una cosa più completa ciao ciao a tutti buone palme